Ti capita mai di svegliarti più stanco o più stanca della sera prima? La situazione tipica è questa, ti alzi col muso, prendi un caffè, sperando di svegliarti e che vada un po' meglio, ma niente. Neanche quello fa più effetto. E così vai avanti per tutta la giornata, secondo, terzo, quarto caffè, ma niente da fare. Sembra come che la stanchezza ti abbia preso e portato con sé in un altro mondo. Bene, benvenuto nel club di quelli con la sindrome da stanchezza cronica. Ciao, io sono Roberto Bombaggi, fisioterapista e fondatore di Fisiomagazine.com, in piattaforma che si occupa di divulgare salute e benessere generale attraverso la produzione di guide, articoli e videocorsi. Bene, benvenuto, benvenuto nel club, proprio perché anche io in prima persona ho sofferto di stanchezza cronica, più in particolare nel periodo della prima quarantena, se non vado errato, e in questo video quindi voglio andare a vedere con te quali sono le cause della stanchezza cronica, perché ti senti sempre stanco, ma soprattutto quali sono i tre rimedi più efficaci che ci mette a disposizione la scienza per uscire da questa condizione e che ho usato io in prima persona per liberarmene. Quello della stanchezza cronica è un campanello d'allarme molto diffuso nella popolazione generale. Sebbene questo in medicina sia un sintomo che accompagna tantissime patologie, tra cui tumori, malattie autoimmuni, eccetera, in realtà quella della stanchezza cronica è una condizione molto presente anche nella popolazione generale in assenza di una vera e propria patologia sottostante. Ecco perché si parla per l'appunto di sindrome da stanchezza cronica. Sindrome è spesso un termine che tende un po' a farci paura, a spaventarci, perché non si sa bene che cosa sia, ma in realtà in medicina il termine sindrome indica proprio una condizione di cui non si conoscono esattamente le cause. Una condizione quindi che non è attribuibile a nessuna causa specifica, proprio come nel caso appunto della stanchezza cronica. Infatti la sindrome da stanchezza cronica è caratterizzata da una situazione di stanchezza che è debilitante e che soprattutto non viene alleviata con il riposo ed è spesso associata anche a sintomi fisici. Infatti i criteri del Center for Disease Control and Prevention per diagnosticare la presenza effettiva di sindrome da stanchezza cronica includono, oltre al senso di affaticamento, la presenza di almeno 4 di questi sindomi che sto per elencarti. Vediamo la nostra lavagna. Numero 1 è il malessere post-sforzo. Quindi dopo aver fatto uno sforzo, una sensazione di malessere generale. Il numero 2 invece è il sonno non ristoratore e quindi la presenza eventuale di disturbi del sonno. Poi abbiamo la presenza di memoria e concentrazione alterate, la presenza di dolore muscolare, generalmente in forma diffusa, poi ancora possiamo avere mal di gola, mal di testa e ancora altri sintomi come l'infono di tenere o addirittura la poliatragia. Bene, in sostanza quando oltre al senso di affaticamento e quindi di stanchezza cronica hai la presenza di almeno 4 di questi sintomi, ecco che il tuo dottore potrebbe fare diagnosi di sindrome da stanchezza cronica. E quindi? Generalmente infatti le persone che ne soffrono vengono proprio lasciate così, con un'etichetta di sindrome da stanchezza cronica attaccata addosso e che si portano dietro poi per tutta la vita e che spesso viene gestita, o almeno si prova a gestirla, tramite l'utilizzo di qualche farmaco. Ecco, nulla di più sbagliato. Infatti gli studi ad oggi, così come l'esperienza diretta di chi ne soffre, ci mostrano chiaramente come farmaci, le terapie farmacologiche, così come le terapie di medicina alternativa siano del tutto inefficaci per questa condizione. Infatti, sebbene i meccanismi sottostanti alla nascita della stanchezza cronica sembrano non essere del tutto chiari, in realtà in fin dei conti le cause che poi portano a questa condizione sono essenzialmente due. E ovvero livelli di infiammazione troppo alti, quindi un'infiammazione generale troppo elevata, e in secondo luogo il disfunzionamento dei nostri ritmi circadiani. E guarda un po' poi come in tutte le condizioni croniche questi due fattori diventano una macchina perfetta in grado di autoalimentarsi, dando origine però appunto ad un circolo vizioso. Infatti, come ci dimostrano gli studi, i livelli di infiammazione generale troppo alta sono la diretta causa di un'alterazione dei ritmi circadiani. E a loro volta l'alterazione dei ritmi circadiani è causa di un aumento dei livelli di infiammazione generale. I ritmi circadiani sono proprio quei meccanismi regolati dalla produzione di determinati flussi ormonali che sono in grado di controllare e regolare il nostro corpo. In qualche modo noi quindi siamo pilotati dai nostri ormoni. Ad esempio, sono in grado di dirci ora e notte devi dormire, ad esempio attraverso la produzione di malattonina, oppure ora e giorno devi svegliarti attraverso la produzione di cortisolo. Questi ad esempio sono proprio i due ormoni principali che regolano i ritmi sonno-veglia. Uno dei primi meccanismi circadiani a venire alterato proprio in seguito alla sindrome da stanchezza cronica. Quindi capisci come avere i livelli di infiammazione generale troppo levati possa portare a un'alterazione dei ritmi circadiani che possa portare ad un peggioramento della stanchezza cronica che ci porta ad andare incontro ad un sonno di peggiore qualità il che ci porta ancora ad andare incontro a maggiori livelli di infiammazione cronica il che ci porta ad andare incontro... Insomma, ci siamo capiti. È un circolo vizioso che si autoalimenta. Ma dove intervenire allora per spezzare questo circolo vizioso? Bene, quello che ci suggerisce la scienza è che sostanzialmente le due terapie principali che funzionano, che sembrano funzionare meglio per questa condizione sono la terapia cognitivo-comportamentale e la terapia fisica graduale, quindi l'esercizio fisico. In altre parole, lavorare sulla nostra componente psicologica e sulla nostra componente fisica sembra essere la migliore strategia per andare a risolvere questa condizione. Infatti, entrambe queste terapie hanno dimostrato di dare significativi miglioramenti nei livelli di affaticamento, nell'adattamento sociale e lavorativo e nei livelli di ansia e di malessere post-sforzo. Mentre invece, come già detto, nessuna terapia farmacologica o terapia di medicina alternativa si è dimostrata efficace nel trattamento di questa problematica. Ed è molto importante intervenire su questa condizione con delle strategie efficaci proprio perché, se portata alla lunga, se protrata nel tempo, questa condizione può portare a delle condizioni addirittura più complesse, come ad esempio a disfunzioni del sistema immunitario e a disfunzioni dell'apparato surrenale, proprio quell'apparato, quell'organo in grado di produrre i nostri flussi ormonali. Ma nel pratico, quindi, cosa possiamo fare? Vediamo allora tre strategie concrete per uscire da questa condizione. La prima strategia che si è mostrata efficace è quella dell'esposizione alla luce. Quindi esporci alla luce solare sembra avere un ottimo impatto sui nostri livelli di stanchezza cronica. Questo perché la luce, più in particolare l'alternanza tra luce e buio, è il principale fattore che va a regolare i nostri ritmi circadiani e, ancora più nello specifico, i nostri ritmi sonno-veglia. Infatti, una delle strategie più efficaci per andare a settare e regolarizzare i nostri ritmi circadiani è quella di esporci alla luce solare in maniera diretta, quindi non attraverso le finestre delle nostre case, per almeno circa 10-15, addirittura 20 minuti nei primi 60 minuti dal risveglio. Una strategia molto pratica ed efficace è quella di andare a fare una passeggiata appunto nei primi 60 minuti dal risveglio direttamente all'aria aperta. Questo perché in qualsiasi condizione meteorologica, perfino quando ci sono nuvole, la quantità di luce in termini di intensità alla quale ci esponiamo è decisamente più elevata anche delle migliori illuminazioni all'interno di una stanza. E questo ci consente per l'appunto di andare a regolarizzare i nostri ritmi circadiani. Il punto numero due ovviamente è quello dell'esercizio fisico. Abbiamo visto che sia la terapia cognitivo-comportamentale che l'esercizio fisico sono due ottime metodiche per andare a combattere la sindrome da stanchezza cronica, ma visto che quando vengono paragonate danno grosso modo gli stessi benefici e non sembra appunto esserci una superiorità di uno rispetto all'altro, l'esercizio fisico rimane probabilmente la forma terapeutica più facile e accessibile da tutti. Ora, una delle prime reazioni dei pazienti quando gli viene detto che devono fare esercizio fisico è quella ma se sono sempre stanco io non ho voglia di allenarmi e questo è assolutamente lecito. Infatti la tendenza comune è quella di pensare che allenarsi possa portare e possa rendere ancora più stanchi. In realtà l'esercizio fisico oltre a produrre una serie di ormoni energizzanti per il nostro corpo come la serotonina, l'ormone del buon umore, l'endorfine, l'adrenalina eccetera eccetera è in grado anche di regolarizzare anche esse i ritmi circadiani di migliorare la nostra qualità del sonno tramite un principio molto semplice che è quello di stancare il nostro organismo. Quindi se noi stanchiamo il nostro organismo volontariamente con una forma di esercizio terapeutico adatto alle nostre esigenze siamo in grado di andare a migliorare la nostra qualità del sonno quindi avere maggiore energia il giorno dopo e andare ad innescare un circolo virtuoso che può portarci ad essere sempre più energici. Ora, qual è la forma di esercizio più efficace? Beh, gli studi in realtà non sono giunti ad una conclusione accettata da tutti sembra che qualsiasi forma di esercizio sia efficace nel ridurre i sintomi da stanchezza cronica. Tuttavia deve sempre valere un principio fondamentale che è quello della gradualità. Quindi se parti da zero ovviamente non iniziare con dosi troppo elevate di esercizio fisico ma piuttosto fatti seguire o comunque cerca di impostare un programma che preveda una certa gradualità e linearità del percorso. Si sono mostrate efficaci poi anche tutte quelle forme di esercizio che coinvolgono poi un po' anche la nostra sfera emotiva come ad esempio lo yoga, il pilates, il qigong proprio perché tutte queste attività lavorano anche sulla nostra sfera psicologica e cognitiva e che abbiamo visto essere una componente molto importante nella risoluzione di questa problematica. Infatti spesso la sindrome da stanchezza cronica si porta con sé anche disturbi d'umore come ansia e depressione che vengono gestiti molto bene tramite l'esercizio fisico. Quindi in altre parole trova un'attività che ti piace ma soprattutto che ti coinvolga dal punto di vista emotivo e psicologico. Quindi magari se ti fa piacere anche attività di gruppo sport di squadra insomma qualcosa che ti coinvolga ma soprattutto che ti stanchi però c'è la con gradualità e stare già a metà dell'opera. E il punto numero 3 poi ultimo è quello di regolarizzare il nostro sonno. Come abbiamo detto noi dobbiamo ridurre i nostri livelli di infiammazione generale dobbiamo regolarizzare i nostri ritmi circadiani ed ecco che andare a lavorare sulla nostra igiene del sonno è un'ottima metodica per fare entrambe queste cose. Infatti quando iniziamo a dormire meglio i nostri livelli di infiammazione si abbassano i nostri ritmi circadiani tendono a regolarizzarsi. Ora come fare per andare a dormire meglio? Cosa fare per andare a implementare la nostra igiene del sonno? Sicuramente la regola principe è quella della regolarità quindi cercare di andare a dormire e svegliarsi grosso modo sempre allo stesso orario. Già questa metodica da sola è in grado di darti tantissimi benefici perché spesso la conosciamo ma non la mettiamo in pratica. Se poi però vuoi approfondire sull'argomento igiene del sonno ti lascio qui il link ad un precedente video dove sono andato a fondo su 5 strategie efficaci per migliorare la nostra qualità del sonno. Bene per questo video è tutto spero che i consigli che ti ho dato ti possano tornare utile e quindi che possano farti tornare ad avere più energie e più sicurezza di te. Come sempre ti invito a lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche e se ti fa piacere condividere il video con chi pensi possa averne bisogno. Io ti saluto e ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao!